Grazie per l'invito e partiamo, iniziamo subito a capire un po' come l'utilizzo della terapia di cannabinoidi si può applicare anche a condizioni come la cefalea e l'emicrania. Ritroveremo alcuni concetti che abbiamo già visto nel corso di questa giornata, cerchiamo appunto di sedimentare le informazioni più importanti. Allora, intanto quando parliamo di cefalee parliamo di una serie di patologie che sono classificate in tre gruppi principalmente, quindi in cefalee primarie come l'emicrania, la cefalea a grappolo e la cefalea di tipo tensivo, le cefalee secondarie quindi quelle che sono motivate da altre condizioni patologiche note e poi le neuropatie dolorose craniche ed altri dolori facciali. Un modo per distinguere questi vari tipi di cefalee è la frequenza degli attacchi, quindi il numero di attacchi al giorno, al mese, le caratteristiche dell'attacco, quindi quanto dura, quanto intenso è il dolore, dove si trova a livello dell'encefalo, del cranio, è un dolore di tipo pulsante, pressorio, traffittivo, oppure se ci sono anche dei sintomi associati. L'emicrania in particolare viene definita come un disordine ricorrente che ha almeno cinque attacchi al mese di durata compresa tra le 4 e le 72 ore per singolo attacco, con almeno poi due delle seguenti caratteristiche. Colpisce un unico lato del cranio, il dolore è di tipo pulsante con un'intensità moderata, severa e può essere accompagnata da alcuni sintomi caratteristici come ad esempio nausea, vomito, fotofobia, fonofobia e anche preceduta da altri sintomi visivi che si conoscono con il nome di aura, quindi circa dieci minuti, mezz'ora o un'ora prima iniziamo a avere dei disturbi soprattutto di tipo visivo che fanno capire che molto probabilmente arriverà poi l'attacco emicranico. L'esercizio fisico può far comparire più facilmente l'attacco o peggiorarne l'intensità. La distinguiamo per esempio dalla cefalea a grappolo perché in questo secondo tipo di cefalea il dolore è molto più severo anche se dura meno nel tempo ed è accompagnato da altri sintomi come per esempio lacrimazione, congestione nasale, rinorrea, aptosi palpebrale e anche insofferenza, agitazione e il dolore della cefalea a grappolo è molto 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 forte. Invece la cefalea di tipo tensivo si caratterizza perché coinvolge tutto il cranio, in genere si dice che parte da dietro, dal collo, poi si sente per tutta la testa. È un dolore di tipo proprio pressorio tensivo e ha una intensità diciamo pochino più lieve rispetto all'emicrania o la cefalea a grappolo. Può durare qualche minuto, qualche mezz'ora ad esempio, pochi minuti come anche per giorni e giorni, poi dipende dalla causa scatenante. La particolarità è che raramente abbiamo dei sintomi associati alla cefalea di tipo tensivo. Fattori di rischio per l'insorgenza dell'emicrania sono lo stress, quindi uno stile di vita particolarmente stressante, sregolato oppure una gestione dello stress poco efficace, il sesso femminile perché sappiamo che la correlazione anche con il ciclo mestruale, le oscillazioni ormonali nel sesso femminile possono talvolta accentuare o predisporre allo sviluppo di emicrania, un sonno di cattiva qualità, una familiarità, l'abuso di farmaci proprio sintomatici anche per la cefalea, quindi un paziente che soffre di emicrania o cefalea appunto è un paziente che spesso utilizza antinfiammatori, blandi oppiace o poi anche se arriva oppiace più severi. L'abuso di questi farmaci sul lungo termine può portare una serie di problemi tra cui anche il peggioramento della patologia stessa. Una dieta sregolata, in particolare magari anche proprio la Western Diet, quindi un'alimentazione ricca di grassi idrogenati, prodotti conservati, processati, sono tutti fattori per cui gli sintomi possono peggiorare. Il sovrappeso, l'obesità e la resistenza insulinica, quindi un'alterazione anche del metabolismo, dei lipidi e del glucosio. Da dove nasce l'emicrania? Ci sono diverse teorie, una delle più accreditate è la teoria serotoninergica per cui alterati i livelli di questo neurotrasmettitore di serotonina e quindi anche l'alterazione dei recettori relativi portano allo sviluppo del dolore, di vasocostrizione, dei sintomi associati come nausea e vomito e poi anche di tutte le patologie, cioè tutti gli altri sintomi collegati alla sfera psichica come ansia e depressione che sono spesso presenti come vedremo in questi pazienti. Altre ipotesi sono l'attivazione del sistema trigemino vascolare, questo sistema che è un po' un insieme di componenti nervose e componenti vascolari che nei pazienti emicranici è diciamo iperattivato per una serie di motivi e da una serie di fattori, questa iperattivazione si traduce nello stimolo doloroso. Specialmente quando poi la situazione diventa cronica, quindi dura nel tempo, la nostra reazione al dolore può essere addirittura alterata e si può arrivare a una condizione che si chiama allodinia, cioè sentire stimoli, sentire dolore anche in conseguenza a stimoli che dolorosi per una persona diciamo in uno stato fisiologico non sono. Altre ipotesi patogenetica, la cortical spreading depression, questa diciamo è una situazione che giustifica molto l'aura per esempio, cioè cosa vuol dire? Abbiamo un'attività elettrica cerebrale anomala, una sorta di onda energetica che si localizza soprattutto nella zona occipitale e questo ci fa capire perché coinvolge di più l'area visiva che si trova proprio anatomicamente lì e può tradursi appunto con i sintomi dell'aura, quindi vedere le macchioline, gli scotomi, dei lampi di luce, essere più sensibili alla luce. Ok? Menzioniamo questo elemento che è il CGRP, il Calcitonin Gene Related Peptid, perché in tutta questa situazione che abbiamo visto, in questi meccanismi patogenetici, una cosa che accade è che questo neurotrasmettitore è più presente e più attivo, contribuisce a mantenere la vasodilatazione dei vasi meningi e anche a facilitare la trasmissione del dolore. Ok? Lo vediamo. A livello cerebrale aumenta la vasodilatazione e quindi è collegato alla patogenesi dell'emicrania. Ci sono infatti diversi farmaci ora di recente studi, di recente introduzione che proprio lavorano per inibire il CGRP e i suoi recettori. Ma quello che poi forse ci interessa un po' di più quest'oggi è parlare di quella che è la chronic endocannabinoid deficiency, che è un qualcosa che abbiamo introdotto per tutta la giornata e adesso vediamo un po' di cosa parliamo. Cioè è una teoria secondo la quale il nostro sistema endocannabinoide in alcune condizioni patogenetiche risulta alterato, squilibrato. Qui meccanismo. Nasce prima l'uovo o la gallina? Cioè noi sviluppiamo la patologia perché si altera il sistema endocannabinoide o sviluppiamo la patologia e quindi poi questa porta uno squilibrio? Non lo sappiamo, però sappiamo che succede. Qual è il problema? È che il sistema endocannabinoide è appunto deputato al mantenimento dell'omeostasi, cioè del nostro benessere psicofisico, la nostra capacità di reagire, di ritornare allo stato di equilibrio nonostante tutto quello che prova a farci andare fuori. Chi se ne occupa nella fattispecie? Diamogli il nome e cognome, l'abbiamo già fatto ma ripetiamolo che serve sempre. L'anandamide, il 2-rachinodoglicerolo che sono gli endocannabinoidi endogeni più studiati, più conosciuti, i recettori cannabici il CB1 e il CB2 e poi i loro enzimi di degradazione, cioè quelli che smontano gli endocannabinoidi quando non servono più. È così semplice? No, perché ci sono mille altre molecole, recettori e neotrasmettitori che allargano questo insieme, tanto è vero che si è arrivati al termine di endocannabinoidoma, quindi un insieme di tante cose che però lavorano sempre nel mantenimento dell'omeostasi. ritroviamo alcuni elementi come il GPR55 e il TRPV1. L'anandamide, scoperta negli anni 90, è un agonista debole del CBR2 ma lavora molto bene sul CB1 e sul TRPV1 ed è degradata da questo enzima che è la fatty acid amine idrolase, quindi più la fatty acid amine idrolase è attiva, più bassi sono i livelli di anandamide. No, sbagliato, aiuto. L'anandamide riduce la dilatazione dei vasi sanguigni della dura madre che può essere indotta dal CGRP e dall'ossido nitrico, quindi già iniziamo a capire che l'anandamide modula, tampona, cioè c'è troppo di una cosa? Arriviamo e cerchiamo di riportare le cose all'ordine. Inoltre stimola anche i recettori 5HT1A, quindi ha un'azione simile ai triptani, uno dei farmaci più utilizzati per la cura dell'emicrania. Due racchino del glicerolo invece parla alla stessa maniera sia col CB1 che col CB2, viene degradato da un altro enzima, la monoacilglicerolo lipasi. I CB1 e i CB2 sono i recettori cannabici, l'abbiamo detto allo sfinimento, sono presenti dappertutto con la distribuzione che più o meno hanno già evidenziato i colleghi, sistema nervoso centrale più presente, più attivo il CB1, sistema immunitario periferia più presente il CB2. È più complicato di così, ma va bene così. La presenza del CB1 soprattutto in tutte queste zone che quindi sono nei centri del dolore, delle emozioni, dell'umore, della neuroinfiammazione cerebrale, dell'appetito, tutto quanto insomma, fa capire perché alla fine i cannabinoidi possono lavorare sul dolore, sull'infiammazione, sulla nausea, sul vomito, sul sonno, sull'ansia, la depressione, tutti elementi che nel paziente emicranico noi dobbiamo andare a toccare. In questo studio, che tra l'altro è stato citato dalla prima relazione, si parla della cronica endocannabinoide deficiency come elemento comune anche ad altri stati patologici che oggi come oggi sono abbastanza, come dire, gettonati e abbastanza presenti negli ambulatori medici. In particolare parliamo della sindrome dell'intestino irritabile e della fibromialgia, dei calderoni diagnostici tremendi. Perché? Perché sono patologie dove abbiamo una serie di sintomi come l'iperalgesia, l'allodinia, un malessere generale, dolori diffusi, scarsa qualità di vita, che però non hanno dei marcatori specifici che ci permettano di dire nero su bianco questa e quella patologia. La diagnosi si fa per esclusione e ovviamente anche per questi motivi e un po' perché il paziente alle volte viene un po' trattato un po' come un malato immaginario, sono spesso correlate ad ansia e depressione. È anche vero che però possono insorgere con più facilità in pazienti che soffrono di ansia e depressione. Quindi questi sono elementi che sempre disturbano un po' il quadro diagnostico ma non ci si può permettere di non andarli a trattare. Questi in particolare sono i disordini intestinali che sono associati all'emicrania, che vediamo spesso associati nei pazienti emicranici, quindi sindrome dell'intesi ineritabile, morbo celiaco, specialmente se non trattato, non riconosciuto perché ovviamente porta a una serie di malesseri correlati, e le infiammazioni intestinali croniche, quindi il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa. Perché vado a parlare di questa cosa? Beh, ovviamente io nasco come medico che si occupa di nutrizione, quindi non si può scampare dal fatto che devo metterla da qualche parte. Ma poi perché abbiamo detto che il sistema endocannabinoide è ovunque, modula qualsiasi cosa, e quindi anche a livello intestinale noi vediamo che i CB1 sono presenti sulle cellule epiteliali, sulla mucosa, sulle cellule endocrine e sui plessi che regolano la mutilità dell'intestino, la peristalsi e anche la secrezione endocrina. Vediamo che il CB2 invece è soprattutto presente sulle cellule immunitarie. Di nuovo in questa slide abbiamo un riassunto di quanto appena detto e vediamo che quindi il sistema endocannabinoide interviene sulla permeabilità intestinale, riducendola, sulla motilità, riducendola anche in questo caso. Quindi nei pazienti ad esempio con intestino irritabile che hanno diarrea, un alvo diarroico, quindi un'ipermotilità intestinale, il cannabinoide può intervenire riducendo questo sintomo, riducendo anche il dolore addominale. Può influire sulla secrezione ormonale, sull'assorbimento dei nutrienti, sulla risposta immunitaria e sull'interazione col microbiota che sappiamo che c'è, non abbiamo ancora capito come, ma c'è e non è proprio un dettaglio. Quindi perché arriviamo a tutto questo? Perché esiste una cosa che si chiama gut brain axis, quindi asse intestino cervello. Se un paziente è sregolato in maniera cronica, ha dei sintomi in maniera cronica, dobbiamo sempre chiedergli come va a livello intestinale, dobbiamo sempre capire e inquadrarlo e casomai indirizzarlo ad un intervento nutrizionale che possa comunque anche intervenire su questa cosa. Perché? Perché siamo in un equilibrio, in un loop, in un circolo vizioso dove la patologia, la condizione di malessere va ad autoalimentarsi. Noi dobbiamo interrompere questa cosa per passare all'altro lato. Questo studio pubblicato nel 2007 ha analizzato e misurato il livello degli endocannabinoidi endogeni in pazienti con emicrania cronica, emicrania da abuso di farmaci e poi in soggetti sani di controllo. La popolazione era così suddivisa, 15 membri con emicrania cronica, 15 membri con emicrania da potenziale abuso di farmaci, 20 soggetti sani. Vediamo che le donne sono in maggioranza e in più questi pazienti sono stati somministrati anche dei questionari con poca validità statistica, ci mancherebbe però, che fanno vedere che bene o male l'ansia e la depressione sono molto più presenti e riferite nei pazienti patologici rispetto ai soggetti sani. Cosa succede? Nei pazienti emicranici l'anandamide ha dei livelli molto più bassi rispetto ai controlli, il CGRP ha dei livelli molto più alti rispetto ai controlli, quindi ritroviamo confermato il discorso dell'endocannabinoide deficiency. Abbiamo visto anche che nelle donne affette da emicrania cronica soprattutto i livelli anche della FA, quindi dell'enzima che degrada l'anandamide, sono molto più alti rispetto ai controlli e di nuovo il sistema che si autoalimenta. Cosa facciamo? Quindi per intervenire su un sistema endocannabinoide squilibrato possiamo pensare di introdurre, di lavorare con il tetraidrocannabinolo e con il cannabidiolo? In effetti sì, perché possono aiutarci a ristabilire l'ordine. Due piccole criticità nell'utilizzo, nell'approccio a questa terapia. Il THC può essere, ovviamente sappiamo che può dare effetti psicotropi, ma nel contesto delle emicranie in particolar modo una somministrazione un po' troppo aggressiva, a dosi troppo alte, in acuto, potrebbe portare un peggioramento del sintomo doloroso e quindi dell'emicrania. Il cannabidiolo in realtà ha delle criticità per finta, perché non rappresenta quasi mai nessun problema, non dà problemi al paziente. È solo stato visto che ad alte dosi, ma ben superiori a quelle che siamo abituati a utilizzare, inibisce alcuni citocromi, che sono una via di passaggio di tantissimi altri farmaci per l'emicrania e non. Quindi eventualmente dovremmo porci il problema delle interazioni, ma se usassimo dei dosaggi veramente fuori dalla pratica clinica. Cosa fa il THC? Il THC, abbiamo visto che può attivare sia il CB1 che il CB2, però in maniera incompleta. Quindi non è tanto forte come l'anandamide, non è tanto forte come il 2-rachinondoglicerolo, ma comunque può attivarli entrambi. È un agonista del CPR55. Questa cosa in realtà è un aspetto negativo nell'emicrania, perché stimolando questo recettore può portare a un aumento del calcio intracellulare, può portare allo sviluppo del sintomo nocicettivo. Ce lo ricordiamo per tra poco. Può agire in un altro modo anche con un effetto di opioid sparing effect. Cosa vuol dire? Risparmio dell'oppioide. Se io somministro il THC insieme al farmaco oppioide, posso avere uno stesso effetto terapeutico molto positivo utilizzando dosaggi inferiori dell'oppioide, riducendo il rischio di effetti collaterali, di dipendenza e tutto quello che è complicato è legato agli opioidi. Quindi la sinergia di questi due farmaci può essere molto utile. Per questo si parla di medicina integrata, molto spesso non di medicina alternativa. Cioè le cose che abbiamo possiamo usarle al meglio combinandole, non per forza dovendo scegliere. Il CBD cosa fa invece? È un modulatore all'osterico dei recettori CBR, quindi ci interagisce, ma ci interagisce in una maniera un pochettino diversa. Perché è interessante ed affascinante anche da usare insieme, perché può mitigare gli effetti negativi del THC, tra cui anche quello sul GPR 55, e può esaltarne gli effetti positivi. È un agonista del TRPV1, vuol dire che si lega, rende questo recettore meno attivo e nei meccanismi di patogenesi dell'emicrania questa cosa è positiva, perché rende meno attivo anche il sistema trigeminovascolare. Lavora un po' come la capsaicina, quella del peperoncino, che è stata osservata e studiata come potenziale terapia per l'emicrania e integrazione. Inibisce la FA, quindi impedendo e diminuendo la degradazione della nandamide, la rende più disponibile, la rende più disponibile ad alti livelli. Anche lui lavora a livello dei recettori della serotonina e quindi può lavorare sia sui sintomi dell'emicrania direttamente, sia anche sul quadro di ansia e depressione. è un bloccante dei canali del sodio, questa cosa è interessante perché anche come trattamento preventivo dell'emicrania, in realtà non è stato pubblicato, però in una raccolta di dati è stato visto che ha un'azione di prevenzione dell'attacco emicranico praticamente sovrapponibile a quelli dell'amitriptilina, che è un antidepressivo usato per prevenire appunto nella prevenzione dell'attacco emicranico. Poi abbiamo parlato di tutti i fattori di rischio, abbiamo parlato dell'influenza sull'intestino, nutrizione, eccetera, eccetera. Beh, uno squilibrio metabolico, il sovrappeso, l'obesità, sono correlati con la gravità dei sintomi dell'emicrania, non con l'insorgenza, ma con la gravità dei sintomi. Se io ho uno scarso controllo glicemico, uno scarso controllo del metabolismo lipidico, del peso, eccetera, eccetera, io sto peggio e sono emicranico stoppeggio rispetto che se perdessi 15-20 chili. Il CBD fa tutta una serie di cose, quindi lavora sulla sensibilità al glucosio, sulla sensibilità all'insulina, sulla lipolisi, eccetera, a vari livelli nel nostro organismo, fegato, cuore, tessuto adiposo, eccetera, eccetera. Un discorso lunghissimo. Non lo facciamo adesso, però, nel mentre che tratto direttamente l'emicrania, posso lavorare anche su questo aspetto, quindi sui fattori di rischio. In una rivista, in un articolo pubblicato dove si studiava l'attività del cannabidiolo sull'ABD, quindi sul Crohn e sulla rettocolite ulcerosa, si è visto che il cannabidiolo potenzialmente potrebbe intervenire riducendo l'infiammazione, riducendo la motorità intestinale, riducendo il dolore addominale, riducendo lo stress ossidativo con un impatto decisamente positivo sulla qualità di vita. Non si sa, cioè, dosaggi, come, perché, ancora, è come il discorso che faceva la collega precedentemente. Dobbiamo capirci molto di più, ma le potenzialità e le premesse in teoria ci sono. C'è una dieta chetogenica, ok? È una cosa che si sente nelle patologie adesso, infiammatorie croniche, argomento abbastanza gettonato di cui si sente la qualsiasi, ok? È un regime alimentare che prevede una riduzione drastica dei carboidrati in favore di una componente di grassi magari maggiore, ma non è una dieta iperproteica, cioè il contenuto proteico va deciso e strutturato sulla base del singolo paziente e delle sue esigenze. Porta alla produzione di corpi chetonici come acetone, aceto acetato e beta-idrossi butirrato, quindi acidi grassi che noi abbiamo anche in un digiuno prolungato, che impariamo a usare come carburante al posto del glucosio. Perché ci interessa? Boh! Allora, intanto ha un potenziale incredibile per perdere peso. Incredibile. Infatti viene usata anche nei pazienti candidati alla chirurgia bariatrica perché permette una perdita di peso importante in tempi relativamente brevi. Ma poi perché il beta-idrossi butirrato è un elemento che a livello intestinale può portare a migliorare la disfunzione mitocondriale, ridurre lo stress ossidativo, ridurre l'eccitabilità cerebrale, ridurre l'infiammazione, migliorare il metabolismo del glucosio, diminuire anche l'incidenza della cortical spreading depression, quindi ancora andare a lavorare sulla prevenzione dell'insorgenza dell'attacco emicranico. Ora, non esiste letteratura che dica l'eta chetogenica sdoganata come dietoterapia per l'emicrania. No, però può essere utilizzata sotto stretto monitoraggio e non, diciamo così, da autodidatti possibilmente. Poi, insomma, mi è venuta voglia, siccome siamo in un contesto anche un po' informale e interattivo, di chiedere ai miei pazienti, a due miei pazienti, che cosa vuol dire soffrire di emicrania, cosa è cambiato con la terapia con la cannabis da quando hanno iniziato a assumerla. Ho fatto questa serie di domande che sono di mia produzione, non è un questionario ufficiale, e ho portato come esempio due casi. Uno è quello di una donna di 51 anni che, vabbè, particolarmente rappresentativa perché soffre praticamente di tutto il gruppo delle cefalee primarie da quando ha 13 anni, con veramente un'aggressività di questa patologia dei sintomi tremenda. Io la prima volta che l'ho vista in telemedicina, l'ho vista al buio, cioè vedevo soltanto dei pezzi rosa della faccia così e basta. Aveva gli occhiali da sole, era tutta avvolta da un asciugamano, al buio, parlava tipo dall'oltretomba e ho detto aiuto. Questa persona ha provato a fare la qualsiasi, tra l'altro è stata associata anche alla diagnosi di fibromialgia da circa tre anni. E dico ma quindi a che livello influiva sulla tua vita? Beh, stavo a casa, non lavoravo, i miei familiari dovevano prendersi cura di me perché quasi non ero più autonoma sostanzialmente. Ho fatto trattamenti al centro di cefalea, all'Umberto I, a Viterbo, agopuntura, osteopatia, omeopatia, psicofarmace basso dosaggio, risultati sempre poco soddisfacenti. 8-9 toradol al mese, paracetamolo, antivomito, farmaci per l'acidità gastrica, PPI, eccetera. Sonno di cattiva qualità, prima di assumere la cannabis, per lunga durata di cattiva qualità. Cosa è successo? Abbiamo introdotto la cannabis, ha detto comincio a dormire meglio, mi sento in genere più energica, fiduciosa. Ho iniziato tre mesi fa e ha fatto effetto dopo dieci giorni, quindi un beneficio quasi istantaneo. Nessun effetto collaterale. Ovviamente è un equilibrio molto precario, non ci facciamo prendere dall'entusiasmo perché potrebbe crollare tutto in un secondo, però insomma le premesse non sono male. Ha iniziato la terapia con olio di bediol, quindi un estratto oleoso contenente il 6% di THC, l'8% di CBD. Una delle preparazioni più equilibrate che abbiamo a disposizione. Abbiamo iniziato con dieci gocce la sera, il che vuol dire un dosaggio veramente molto, molto basso, tranquillo, veramente di partenza. Già con questo dosaggio lei ha avuto i primi miglioramenti. Rarità, perché in genere è veramente un po' troppo basso perché abbia un effetto, però è andata bene. Poi ci siamo rivisti a luglio e ho consigliato di aumentare a 25 gocce più 10 gocce al bisogno eventualmente durante proprio l'attacco emicranico come terapia dell'attacco sul momento. Vediamo come va, però speriamo che continui così. Al controllo quando l'ho vista era in canotta, abbronzata, con la luce della finestra che le incorniciava al viso e che mi diceva che a settembre avrebbe ricominciato a lavorare. Quindi io spero proprio che continui ad andare bene. Cosa abbiamo raggiunto? Abbiamo ridotto l'intensità degli attacchi, la frequenza, abbiamo ridotto la sintomatologia depressiva e abbiamo ridotto il ricorso ai sintomi ai farmaci antidolorifici, guadagnando tutto il resto. Una miglior convivenza con la patologia, miglioramento del sonno, dell'autonomia, delle prospettive. Insomma, la qualità di vita ha avuto un impatto molto 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 buono. Altro caso, ragazzo di 26 anni. Lui invece l'ho visto che la patologia era di recente insorgenza, una cefalea aggravativa frontale da pochi mesi, ma questo elemento iniziava condizionare un po' la sua vita perché iniziava a stare a casa dal lavoro un po' troppo e soprattutto non mangiava. Cioè questo ragazzo mangiava qualcosina ogni 48 ore, anche di più. E infatti così. Aveva assunto l'aroxilabasso dosaggio con nessun beneficio, brintelixaden con problemi di tolleranza. Dormiva male prima della cannabis. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato la cannabis e dorme meglio, riesce a controllare la cefalea, mangia. Mangia, fa due pasti al giorno più uno spuntino, invece che fare uno spuntino ogni due giorni. Gli ho provato a sottoporre delle indicazioni nutrizionali che mi ha promesso che forse che appena si mette un po' insomma nell'ottica continuerà, cioè inizierà a seguire perché va bene che ora mangi, sono contenta, però allora lavoriamo su che cosa mangi adesso. E ha sospeso l'aroxil. Di nuovo abbiamo avuto questo pannello di effetti. Lui da cosa è iniziato? Dalla infiorescenza di Bedrocan, quindi un THC del 22%, vaporizza 200 mg per due volte al giorno. Perché ho cominciato con la via nellatoria con questo ragazzo? Perché aveva già provato ad assumerla per i fatti suoi, cominciando con la via nellatoria. Quindi gli ho chiesto che tipo di infiorescenza avesse provato, a che dosaggi più o meno, e abbiamo cercato di replicare la terapia, mentre la signora di prima non aveva mai approcciato la cannabis. E quindi ho scelto un approccio che per il cronico andasse meglio, quindi una formulazione oleosa e più equilibrata. Cosa ci diciamo alla fine? Che i cannabinoidi rappresentano un trattamento versatile, ben tollerato e completo dell'emicrania, ma anche di molte altre patologie, come abbiamo visto. L'approccio clinico integrato è un qualcosa da cui non si può prescindere, cioè non si tratta il sintomo, si tratta il paziente, possibilmente. L'intervento dietoterapico mirato può migliorare sia i fattori di rischio, sia i sintomi dell'attacco emicranico, però studiare, 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 per citare la dottoressa Liberati. Grazie per l'attenzione. Allora ancora una volta, se ci sono domande. Grazie, molto interessante, grazie, bravissima. Una domanda un po' specifica. Nello studio delle cefalee emicranie, diciamo, è stato fatto presso il vostro centro uno studio del TDM nel siero, nel liquor, o vi siete basati semplicemente su criteri clinici, oppure anche farmacodinamici e farmacodinetici? Allora, grazie per la domanda. Il nostro centro ha tantissime buone intenzioni, però ad ora è praticamente un poliambulatorio, quindi è una realtà effettivamente ambulatoriale e non laboratoristica, con ancora un'identità non di ricerca sostanzialmente, quindi un po' associato alla letteratura, un po' sulla base anche delle esperienze, soprattutto però dell'esperienza clinica e dell'esperienza empirica. Cioè io questo approccio l'ho avuto con la paziente con l'emicrania cronica, ma in realtà probabilmente potrebbe essere lo stesso approccio che avrei con il paziente col Parkinson, non con l'Alzheimer. Perché effettivamente, anche se sembra che la cannabis sia un qualcosa di molto difficile magari da usare, da approcciare, in realtà è davvero molto maneggevole e le cose che si possono fare specialmente per partire sono poi alla fine, diciamo, un po' poi condivise anche se non c'è niente di scritto, non c'è una linea guida. Quindi è un frutto di un'esperienza clinica e anche di un'esperienza del paziente, che molte volte arriva in ambulatorio già dicendoti, ho fatto le mie prove. E allora tu ne tieni conto. Ok. Un'altra domanda? Sì, grazie per la bella presentazione. Una curiosità, o hai esperienza su, o hai riscontrato in letteratura, il digiuno, la dieta, il minima digiuno e i livelli di endocannabinoidi circolanti? No. Nel senso che mi sarebbe piaciuto poter approfondire questo aspetto, soprattutto perché quando studi e prepari per un discorso del genere, vedi letteratura, trovi un sacco di spunti. Non ho effettivamente ancora avuto modo di approfondire in una maniera, insomma, per cui mi sentirei preparata a rispondere a questa domanda. Diciamo che per quanto riguarda l'emicrania in sé, il digiuno molte volte si legge che sia controproducente. Poi, a seconda dei casi, può anche essere proposto la dieta minima digiuno, come potrebbe essere una chetogenica, in teoria potrebbe migliorare il tono endocannabinoide, perché comunque va a ripristinare ed equilibrare anche la cronica endocannabinoide deficiency per tutti i meccanismi correlati, perché poi alla fine sono tutte strategie che portano allo stesso risultato. Però dire che ho avuto modo di studiare e leggere ad oggi è nella lista delle cose da fare, perché gli spunti sono tantissimi, però ecco, non... Ok, un attimo. Grazie per la sua bella relazione e vorrei chiedere... Vorrei chiedere, già da decenni soffro di dolori, soprattutto dolori articolari, inoltre... Ora, se presentate il sospetto che io soffro di neuropatia, sono ancora in fase di così di verifica, però gli attacchi di emicrania mi creano problemi, che ripetutamente mi avviano dal gennaio 2020, prendo cannabis terapeutica, da allora sto meglio, però insomma ripetutamente mi arrivano gli attacchi ed è un qualcosa di molto aggressivo se nella testa si presenta questo dolore atroce, cinque anni fa ho avuto un attacco dove proprio nemmeno la cannabis è più servita, né la nevolgina supplementare prendo 40 gocce tutte le volte quando c'è il sospetto che qualcosa possa arrivare, oggi adesso in questo momento di nuovo ho un po'... chiamalo per attacco, arrivi un qualcosa, non ho appresso nessun farmaco, c'è la mia domanda, cos'altro potrei fare per prevenire questi attacchi di emicrania, perché insomma sono ridotto a letto se mi arriva un attacco del genere. la BIS che sta assumendo... scusi, non mi aspettavo la mia traduzione giustamente... pediol... 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 pediol di giorno e petro can la sera... in olio... in olio... in olio... pediol di giorno e poi nella gestione acuta valutare se potrebbe essere interessante affiancare Affiancare la via inalatoria dell'uno o dell'altro e poi ovviamente completare l'inquadramento clinico capendo eventuali altri trigger, quindi fattori scatenanti o altre componenti della patologia complessiva. Pronto. Sono un po' diminuiti di frequenza. Ho dovuto prendere Maxalt o altri farmaci, adesso non ricordo nemmeno i nomi, altri analgesici che mi avrebbero comunque danneggiato il fegato e pertanto sono passati al cannabis. E ora va meglio, anche i valori epatici sono normalizzati e insomma in fondo è stata un'evoluzione relativamente felice che so che almeno il cannabis non danneggia. Così, avendo queste poche informazioni sulla gestione del sintomo e di una terapia al bisogno, posso consigliare di valutare la via inalatoria. Come dicevo prima, di bediol o di bedro canna seconda, poi bisogna capire, cioè dovremmo sederci a un tavolo e fare due ragionamenti. E per eventuali altri interventi, anche preventivi, eventualmente cercare di capire se c'è qualcosa che può scatenare, anche approfondire il quadro clinico in generale. Ok, grazie mille. Prego, grazie a lei. C'è un'altra domanda qui? Che lingua? Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere se succede nella vostra esperienza che il paziente inizialmente ha un ottimo risultato con la cannabis, soprattutto dopo aver percorso con l'emicrania cronica tantissimi tentativi terapeutici con farmaci e poi abbia abbandonato perché dopo questo iniziale ottimo risultato ha avuto, nella vostra esperienza, se ci sono questi casi e se sì, qual è la percentuale di abbandono della terapia con il cannabis? No, in realtà abbandono, cioè dopo un periodo particolarmente felice e poi una regressione completa dell'effetto terapeutico, devo dire che no, non mi è capitato. Ma lì sta anche nel fatto che in pazienti di questo tipo appunto appena hai una finestra o un margine di miglioramento provare a fare tutto il resto che puoi fare per cercare appunto di lavorare sullo stile di vita in generale. Molto spesso questo aiuta a non ricreare le condizioni, è un po' il circuito vizioso che abbiamo detto prima. Un meccanismo diciamo di franco adattamento, di franca tolleranza alla terapia con la cannabis, tanto da portare il paziente a abbandonarla sul lungo termine, in realtà no, non mi è capitato. Che ovviamente dopo un certo periodo magari ci fosse da modificare il dosaggio oppure, che ne so, l'andamento anche stagionale, ovviamente che durante l'anno magari ci siano degli aggiustamenti da fare, a un certo punto modificare la terapia, quello sì, però proprio un abbandono perché dopo un entusiasmo iniziale abbiamo perso il risultato. Se non succede niente di mezzo, no, effettivamente non ho da riferirlo. Ok. Un attimo. Un'altra domanda è solo per così capire se avete avuto anche casi di remissione, nel senso uno che inizia la terapia con cannabinoidi, così, e poi cambiando stile di vita, così è tornato a essere senza uso dei farmaci, se avete, non so, nella vostra esperienza, oppure lei, insomma, ipotizza che è possibile una cosa così, remissione? Allora, testimonianze, no, c'è anche da dire una cosa, io non ho un'esperienza decennale, cioè, io lavoro in questo ambito dal 2019 e gestisco l'ambulatorio proprio in maniera, diciamo, un pochettino più attiva, giustamente da un paio d'anni covid di mezzo, quindi spero di poter rispondere positivamente a questa domanda. Magari lascio la parola anche alla dottoressa Liberati se per caso ha invece qualche risposta, o ai colleghi, se hanno qualche risposta diversa da riferire. Diciamo che per quanto riguarda la remissione completa, io lo spero, io lo prospetto ai pazienti, cioè al ragazzo di prima che mi arriva con la cefalea tensiva e ha solo la cannabis per via nell'atoria, e ha una serie di cose che vedo che non vanno bene, se riusciamo ad aggiustarle io ipotizzo che possa essere libero dai farmaci, anche dalla cannabis, perché non è che una volta che la introduco poi bisogna tenercela per sempre, resta un sintomatico per la maggior parte del trattamento, ok? Però ecco, spero di rivederci qui fra qualche anno e poter dire, ah, ho i dati, ho i casi, però ad ora ecco, però già la riduzione del dosaggio, addirittura la sospensione di molti farmaci di altre categorie, sono un risultato che invece vedo anche in tempi relativamente brevi e che poi riusciamo a mantenere sul lungo termine. Alla collega, scusate sempre, grazie, come dice, nel morbo di Alzheimer e pazienti alziani, esperienze di utilizzo appunto di cannabinoidi per via orale e eventuali risultati, tollerabilità e possibilità a lungo termine di utilizzo? Nell'Alzheimer, giusto? Nel morbo di Alzheimer? Sì. Allora, nell'Alzheimer il paziente è prospettando una forma di terapia con il cannabidiolo, facendo un po' un discorso abbastanza chiaro. Il paziente viene che nella maggior parte dei casi ha acquisito delle informazioni, quindi sa di non ricevere la cura alternativa, però sa che qualcosa può aiutare, può fare, per cui si fa in genere una delle cose fondamentali è la comunicazione, cioè spiegare lo stato dell'arte, spiegare quello che potenzialmente può dare la cannabis, iniziando con una formulazione tranquilla da un punto di vista di psicoattività, perché cominci col cannabidiolo. In genere ti seguono i pazienti, riesci a fare un buon lavoro, perché comunque vedono dei miglioramenti. Parlo in maniera un po' grossolana, sostanzialmente, però effettivamente un aiuto della qualità di vita ce l'hanno, migliorano, migliorano molto. Io sto anche utilizzando, in maniera un pochino off-label e anche ufficiosa, del cannabigerolo. Noi abbiamo parlato di THC e di CBD, in realtà la cannabis è un fitocomplesso e ce ne sono tanti altri fitocannabinoidi. Abbiamo THC e CBD, abbiamo il CBG, il cannabigerolo, abbiamo il cannabicromene, abbiamo la cannabidivarina, che sono dei nomi che in realtà nascondono dietro delle potenzialità terapeutiche importanti. Uno di questi è il cannabigerolo, che sembra essere un analgesico più potente del CBD e non ha gli effetti del THC. Per cui adesso sto facendo una sorta di osservazione mia personale su pazienti con forme di dolore benigno, quindi dolore da cervicalgia, muscolo tensivo, associando la cannabis a un'applicazione topica di cannabigerolo. Effettivamente ho dei riscontri, una formulazione miscelata con della mirra, quindi utilizzando anche dei nutraceutici. effettivamente pazienti che non assumono antinfiammatori. Per cui questa è una cosa che mi sta un po' stuzzicando e vediamo se riusciamo magari a creare qualcosa di più solido. Prego. Ok, ho visto un'altra domanda, due. Possiamo pensare all'utilizzo della cannabis in maniera preventiva? Cioè che possa essere un aiuto ad evitare certe malattie o i stati infiammatori? Grazie. Possiamo pensare. Direi di sì. Sì. Diciamo che nell'antica Cina il medico veniva pagato se manteneva il paziente in buona salute. Non veniva pagato se il paziente si ammalava. Per cui questo la dice lunga. Quindi secondo me la prevenzione, se c'è anche la cannabis di mezzo, ben venga. Riferito a quello che hai detto prima sul cannabicerolo, no? Io ho mamma con la fibromialgia che aveva provato con la cannabis, ma non so se lei non ha avuto pazienza di aspettare, ma era stata seguita da un medico. Penso bravo, insomma, perché è qui di Bolzano, penso sia stato un bravo medico. Però poi ha mollato. Ecco, lei parla di questo cannabicerolo a livello topico, quindi come crema, più cannabis. Ma è questo preparato? C'è nelle farmacie? Abbiamo una farmacia con la quale abbiamo una collaborazione attiva per tutte le formulazioni di cannabis. A Milano però. E in più è a Erba, provincia di Como. Questa farmacia sta studiando delle formulazioni con dei cannabinoidi, in particolare con questo CBG. Per cui ci ha fornito della campionatura con, in realtà, un'indicazione un pochino più mirata verso le vulvodinie, quindi un utilizzo per le problematiche della sfera genitale e pavimento pelvico. In realtà questa è stata una mia idea, proprio perché la Mierra e il cannabicerolo hanno un'azione analgesica molto potente. Dato che non ho ricevuto un'opposizione da parte della farmacia ad un utilizzo un pochino così extra, ho tentato. Effettivamente sta dando dei riscontri. Complimenti, grazie intanto. A voi. Volevo fare una domanda alla dottoressa Florian. Lei ha parlato brevemente della chetogenica, no? E poi ha interrotto, giustamente per parlare d'altro. È vero che è un argomento un po' fuorviante, però siccome ci sarebbe dovuto essere qui l'esperto sull'epilessia, l'epilessia è una delle cose per cui veniva proposta la dieta chetogenica. Però anche lì ci sono, insomma, dei pro e dei contro. E volevo sapere poi se avete anche persone con epilessia che avete avuto degli effetti benefici per chi ha utilizzato cannabis e chetogenica insieme, se ci sono stati. Grazie. Allora, come dire, io provo sempre, cioè quando ho la possibilità la propongo, nel senso che se vedo una situazione in cui potrebbe essere utile, la propongo. I limiti di questo regime alimentare, che è poi un regime proprio dietoterapico secondo me, perché comunque è complesso, cioè è semplice ma è complesso. Concettualmente non è così difficile da capire, da mettere in pratica da autodidatti è particolarmente difficile, da portare avanti, da portare avanti su un bimbo è difficile già per l'adulto, sul bimbo è ancora più difficile. Quindi effettivamente farla a regime ambulatoriale, dove comunque è un controllo relativo anche di quello che poi succede al di fuori, ammetto che, insomma, è un po', adesso non posso dire, tocco con mano dei risultati. La letteratura anche in questo caso è promettente perché, insomma, nei casi di epilessia farmacoresistente con la chetogenica si sono raggiunti degli ottimi risultati, però anche gli studi stessi arrivavano a dire, poi la compliance per quanto la devi mantenere, cioè appena esci dal regime torna di nuovo il problema, l'associazione con la cannabis è molto affascinante, spero di poterla veramente applicare più spesso, ci provo, però quello che dico al paziente è questo, io vorrei che la cannabis, che la terapia col cannabinoide diventasse un ponte, cioè una porta da aprire per poi poter costruire una serie di altri interventi, per cui magari recuperando un po' l'ottimismo perché le cose vanno meglio, recuperando un po' le energie, la voglia di mettere la testa anche sulla cura di se stessi, allora poi lì infilo l'alimentazione, però è un percorso che purtroppo richiede tempo, compliance e anche quello dipende molto dalla persona, e quindi anche lì spero di rivederci fra qualche anno con qualche risposta in più, per la mia esperienza personale, perché posso basarmi sulla letteratura, la letteratura è accessibile e dice appunto risultati positivi, risultati alle volte un po' controversi o comunque difficoltà di applicazione. Ora credo siamo anche in un momento storico dove vuoi che il marketing un po' complica la vita, ma magari ce la semplifica anche perché ci sono magari prodotti o ricette, quindi tutto è reso più stuzzicante magari, quindi ci si prova a rendere più adatta, più proponibile anche ai pazienti, però ci vuole anche il momento giusto per una proposta del genere, perché bisogna avere la testa. Ok, la dottoressa. Avrei una domanda alla signora Liberati. Dunque grazie davvero, io purtroppo le lo posso chiedere solo in tedesco, avrei ancora una domanda in merito al trattamento della demenza con CBD, se l'ho capito bene, lei ha detto che inizia con dosaggi bassi di CBD, però non ho capito se l'obiettivo, se il miglioramento di singoli sintomi, non so, aggressività, disturbi del sondo, qualsiasi cosa che voglia migliorare, oppure se l'obiettivo della terapia possa essere un effetto nero protettivo, cioè per ridurre la progressione della malattia. Mi sorprende perché per i dosaggi minimi di CBD non disponiamo di dati clinici, abbiamo studi nei quali il CBD ha evidenziato effetti nel chieso di psicosi, di epilessia, eccetera, però parliamo di elevati dosaggi, 400, 600, 800, 1000 mg per giorno, per cui non è chiaro quello che vuole raggiungere con questi bassi dosaggi. La letteratura dice che in funzione dello stadio dell'Alzheimer, quindi lo stadio in cui viene fatta, viene posta la diagnosi, l'utilizzo del cannabidiolo può avere potenzialmente un duplice effetto, cioè un'applicazione, un inizio di terapia col cannabidiolo in fase precoce può dare anche un miglioramento proprio del declino cognitivo, cioè un recupero della plasticità sinaptica e neuronale. In fase avanzata, quindi io ho una malattia già evoluta, quindi nella scala temporale ho superato la fase intermedia e sono già nella fase grave, l'obiettivo è quello di andare a gestire la qualità di vita, quindi gestisco i sintomi senza attese di recupero proprio del declino cognitivo. Sul dosaggio è un po' poco chiaro, nel senso che con 15 mg o peggio ancora con 5 mg al giorno io faccio poco. Quello che suggeriscono è un atteggiamento geriatrico, nel senso di fare una partenza bassa e poi salire, salire fino a verosimilmente raggiungere un obiettivo terapeutico che si pone all'inizio. Nel momento in cui prendi in carico il paziente decidi, cerchi di fare una stima, è troppo, però cerchi di proporre al paziente che con il cannabidiolo a questo dosaggio fatto in maniera graduale, ci sono queste possibilità di target, di obiettivo terapeutico. Quindi non so se ho risposto alla domanda. Bene, grazie davvero effettivamente. Lei ha risposto alla domanda. Ritengo solo che sia importante che si chiarisca che non ci siano dati scientifici a base e adatti a dimostrare che un dosaggio minimo di CBD possa causare effetti terapeutici. Credo sia importante dire dove siamo in presenza di dati e dove ci muoviamo nell'ambito dell'esperienza della medicina sperimentale.